Prima corsa, secondo posto, che sensazione hai avuto? Un secondo posto che brucia, perché stavo veramente bene. Anche l'anno scorso ho partito forte, nel primo in tre corse ho fatto due secondi. Speravo di partire col piede giusto, sono partito col piede giusto, ma sicuramente brucia il secondo posto, perché anche in volata mi sono sentito bene. Purtroppo sono rimasto un attimo, ho perso l'attimo e sono uscito un po' tardi. Ormai Grega ha fatto sicuramente una gran volata, quindi complimenti a lui. Ringrazio la squadra che ha fatto un gran lavoro, ci sono andati forti tutto il giorno. Andiamo avanti così, guardiamo adesso con l'Aigueglia, con sicuramente più convinzione della condizione. Una corsa tra l'altro più dura l'Aigueglia, quindi magari anche più adatta alle due caratteristiche? Ma per come stavo in salita sicuramente è una corsa che si addice di più, anche se alla fine, anche oggi è diventata un po' il tempo, un po' il vento, è diventata dura. Però sicuramente l'Aigueglia mi piace di più e ho già fatto due secondi posti, sarebbe ora anche di vincere.